Ciao a tutti, mi chiamo Filippo Melzi, pratico Govindam da dieci anni. Sono stato selezionato per il team Italy per il lungo quale è nel TNNF ed è la mia seconda esperienza in un campionato europeo G. Sono molto orgoglioso di rappresentare l'Italia e mi raccomando ti fate Team Italy e Forza Italia. Sono Francesca e pratico Govindam da quattro anni. Sono stata selezionata nel gruppo 3 per il lungo quale è la prima volta che parteciperò nel team Italy nel campionato europeo. Sono contenta di partecipare e subito il team Italy. Mi chiamo Riccardo Verze, pratico Govindam da nove anni. Sono stato selezionato dal team Italy e prenderò parte a tre competizioni di Q&A. Per me è la terza esperienza a livello europeo e spero di riprendere i risultati buoni come nelle precedenti. Da poco saremo in gara, seguiteci e Forza Italia! Campionato europeo giungo! A Tenerizio! Forza Team Italy! Forza Team Italy! Forza Team Italy! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!